Noi siamo qui in una grande domenica dedicata al mondo femminile. È una bellissima domenica, si chiama Corpi in movimento contro la violenza, organizzato ovviamente da Non Una Di Meno. E io qui con me ho una delle magiche ragazze che ha avuto questa brillante idea. Sono qui con Franca Masironi. Ciao! Ciao, ciao Tiziana! Come mai questa bellissima giornata dedicata al mondo femminile? Abbiamo organizzato questa giornata perché il 25 novembre è la giornata contro i femminicidi e noi abbiamo pensato di affrontare questo tema con un momento di convivialità, un momento impegnato e un momento allegro perché pensiamo che queste brutte cose che tutti i giorni succedono possano essere affrontate e vinte solamente con la collaborazione di uomini e donne e con uno spirito anche di battagliero, uno spirito di lotta che ci permetta ogni giorno di fare qualche passo avanti perché noi pensiamo che l'unico modo per combattere la violenza, il patriarcato che appunto ci avvolge un po' tutti in questo momento sia quello di informare, quindi di preparare, di educare i bambini, di educare i giovani, le donne e gli uomini per appunto capire meglio qual è il problema e capire la radice per poi comunque vincerlo, speriamo. Chi è Non Una Di Meno? Allora, Non Una Di Meno, ti parlo di Consedice perché comunque Non Una Di Meno è un gruppo che opera a livello internazionale. Nella nostra piccola realtà abbiamo pensato di fare appunto questo piccolo gruppo perché ci siamo chiesti se nella nostra società avesse ancora un senso definirsi femministe e fare delle lotte di tipo femministe. Abbiamo valutato che in un mondo dove c'è odio, dove c'è razzismo, dove c'è fascismo, dove c'è cattiveria in genere e le donne sono tra le prime vittime proprio di questa cattiveria era ancora il caso appunto di fare un gruppo che portasse avanti e che facesse le battaglie per questi diritti. Noi pensiamo che anche negli ambienti di lavoro si debba fare molto perché proprio già il salario delle donne non è ancora pari a quello degli uomini e questa è una cosa molto ma molto grave. Inoltre all'interno appunto del rapporto tra datore di lavoro e dipendente spesso ci sono delle violenze psicologiche e anche fisiche che in accordo con le parti sociali sono da guardare e da controllare. Quindi noi sul nostro territorio stiamo facendo un lavoro anche con le scuole, con i bambini, facciamo dei lavori con la biblioteca, facciamo presentazioni di libri, abbiamo fatto mostra fotografica, facciamo ad esempio, questo è il primo anno che abbiamo pensato questo tipo di iniziativa, però già per l'8 marzo ne abbiamo fatto altre e abbiamo in mente tanti progetti, abbiamo fatto anche un progetto che verrà presentato all'Unione dei Comuni che dopo la mia amica vi illustrerà meglio e quindi insomma cerchiamo di fare tutto quanto quello che è possibile. Siamo sempre presenti anche alle manifestazioni a livello nazionale, infatti la manifestazione di ieri a Roma ci ha dato un grande entusiasmo perché tutte le persone che hanno partecipato ci hanno caricato, quindi siamo pronte per ripartire con nuovi progetti, con nuove esperienze. Non è poi così complicato comunque iniziare a reagire a queste cose, partendo forse anche dalle piccole cose, giusto? Certo, certo, molto importante è anche il linguaggio, cerchiamo di usare anche un linguaggio di genere, cioè non lo facciamo perché non siamo stati abituati, tutto quanto è declinato al maschile, però quando diciamo buongiorno a tutti, se diciamo anche buongiorno a tutte, già incominciamo a fare un piccolo passo avanti. Di sensibilizzazione. Esatto, quindi proprio dalle piccole cose si parte, poi bisogna stare molto attenti ai linguaggi, diciamo tra bocchetto, perché anche nelle pubblicità ci sono tanti messaggi sessisti che insomma dovrebbero essere eliminati e ritornando al discorso scolastico, proprio anche educando i piccolini già dalla scuola materna ad usare questo linguaggio di genere che per noi potrebbe essere un piccolo passo avanti. È molto importante anche il linguaggio dei media, quando si parla di femminicidi si parla di raptus, si parla di l'ha uccisa per amore, si parla di ha perso il controllo, ma non si uccide per amore. Il raptus è un'altra roba, quindi qui siamo proprio davanti a degli assassini, non siamo davanti a delle persone che hanno dei problemi o non so quali, quindi anche lì bisogna stare molto attenti a quello che i media ci trasmettono. Grazie.